In veste informale, come volete voi, però per testimoniare, io l'ho vista nascere questa, perché ero prefetto a Potenza quando è venuto Presidente Monti. È tutta italiana, quindi è la perfezione dell'intelligenza italiana. Siamo nella storica sede Fiat di Bari, millennia. L'evento è di quelli speciali, anzi unico, perché è l'anteprima assoluta della nuova nata della casa automobilistica, la 500X, versione SUV del modello 500, ma con un valore aggiunto, per nulla trascurabile. È la prima 500 italiana al 100%, prodotta interamente nello stabilimento Saata di Melfi, al sud. È sicuramente un'auto molto trasversale, non ha un cliente ben definito, perché noi immaginiamo che quest'auto possa andare bene da giovane, meno giovane, famiglia. Ha una quantità talmente ampia di motorizzazioni, di versioni, di cambio. Abbiamo anche le versioni 4x4, quindi credo che il cliente potrà essere sicuramente soddisfatto. Prezzi a partire da 17.500 euro. La 500X segna l'evoluzione tecnologica del brand, con sofisticati dispositivi di sicurezza e comfort, ma soprattutto è esempio di qualità, impegno, innovazione ed edizione al lavoro. Siamo carichi e siamo ancora più entusiasti perché abbiamo finalmente aperto la porta al mondo. La 500X, già disponibile, sarà esportata in oltre 100 paesi. La sua prima auto mi dica che è stata una 500. Chi non l'ha avuta? E tanti ricordi in quella 500.